Devo solo salutarvi e ringraziarvi perché la vostra presenza ci rincuora, abbiamo veramente faticato per fare questo lavoro ma abbiamo avuto una grande risposta da parte di tutti, dagli sponsor, da chi ci ha dato le caffettiere, da chi ci ha dato altro materiale, veramente soldi pochissimi ma lavoro tantissimo e soddisfazione tantissima e questi sono risultati che in questo momento ci fanno onore e penso faccio onore anche a voi che siete presenti e potete gustare quello che stiamo facendo. Passo subito la parola all'Alberto che vi dice due cose come al solito molto sintetici e poi sentiamo il nostro audio del Matteo. Grazie. Buongiorno a tutti, vi ringraziamo tanto perché la partecipazione è numerosa anche superiore alle nostre aspettative, speriamo poi che sia altrettanto partecipata l'iniziativa che parte alle 10 e mezzo in poi in giro per Omenia. Perché il tentativo di Omenia Express era proprio questo, far vivere alla città un prodotto, un'eccellenza, un prodotto immateriale, culturale, interessante del nostro territorio, in questo caso proprio la moca. Per cui oggi partiamo da quella che è l'origine, cioè quando, come e perché è stata inventata la moca nel 1933. Ci racconterà qualcosa proprio a riguardo Matteo Severnini, scrittore e autore radiofonico, presentandoci il prodotto, il docuradio che ha fatto per la radio svizzera. E poi ci saranno interventi sia qua al forum, sia sulla Zattera, quindi proprio in Centra Omenia, di due tra i principali esperti di caffettiere e macchine da caffè d'Italia, signor Maltoni e signor Carli. Sentiremo dopo anche un loro intervento, ci faranno gustare delle chicche proprio legate alle macchine da caffè, pre-moca e moca. Presidente, cosa facciamo? Iniziamo subito con Matteo, va bene? Ma io direi di sì. Tra l'altro sono sedie anche un po' particolari. Ci terrei a farvi precedere da un intervento istituzionale dovuto e doveroso. Ci sono qua almeno tre rappresentanti della nostra città, cioè il primo cittadino, Aide Mellano, poi c'è Mario Camera che è un'istituzione, e poi l'assessore alla cultura, Alessandro Buzio, e poi c'è anche il neoassessore, possiamo dire così, che è Maurizio Frisone. Ed è un piacere perché è proprio la prima uscita da assessore, giusto? Per cui siamo onorati di questo. Passo la parola al sindaco, Aide Mellano. Allora, dato che abbiamo giustamente segnalato la presenza di un neoassessore, mi piace ricordare che il logo della lista civica in cui Frisone è stato eletto aveva proprio scelto di essere l'ottagono della caffettiera Bialetti. Ed era stato dichiarato che lo era. Era il profilo della caffettiera, poi con inserito lo skyline della città, proprio perché la caffettiera, la moca, era stato uno dei grandi simboli dell'operatività e della creatività omenese. Uno dei grandi segnali di rinascita che questa città aveva dato, di fatto soprattutto nell'immediato dopoguerra, credo, perché la moca è stata progettata nel 1933, però la sua grande fortuna commerciale, credo che sia cominciata, mi sbaglio? Nel dopoguerra. Il progetto era stato del signor Alfonso Bialetti, poi la grande opera di commercializzazione, però l'aveva fatto il figlio Renato Bialetti, quindi nel dopoguerra. Questo proprio per dire che questo oggetto, al di là di essere un oggetto di uso, che fa parte oramai delle tradizioni culturali di mezzo mondo, perché quando facciamo il caffè quasi tutti pensiamo prima di tutto alla caffettiera, poi sono arrivate, e a quella caffettiera, poi sono arrivate le macchine espresso, però fondamentalmente la moca è la moca, no? Cioè è uno di quei casi dove la fortuna commerciale di un articolo è stata tale che da essere nome proprio di una cosa è diventato generico. La caffettiera è diventata la moca, come le creme spalmabili al cioccolato sono diventate la nutella. Quando diventa un generico vuol dire che il successo commerciale di un oggetto è stato altissimo, altissimo, che è diventato un simbolo, che ha cessato di essere un semplice oggetto d'uso, è diventato un'altra cosa. Per questo mi pare particolarmente giusto ricordarla. In questa nostra città che ha patito così tanto dalla deindustrializzazione, che sta cercando di ritrovarsi un'anima e una definizione, noi partiamo anche da qua, dal recupero di quelli che sono stati i momenti significativi della nostra storia. È bello, è bene così. Grazie. Ho detto almeno tre rappresentanti della parte istituzionale di Omenia perché sapevo che avrei dimenticato qualcuno, non vedevo. Infatti c'è anche Gianni De Santi che oltre a essere il presidente attuale del Consiglio Comunale è stato il primo direttore del forum, per cui qua penso proprio con due importanti vesti. Grazie anche per la tua presenza.